poco per volta senza fretta ma stanno tornando mi riferisco ai punta e clicca avventure ludiche che parevano destinate alla scomparsa ma che recentemente stanno vivendo timidi segni di ripresa e di interesse ritrovato detective gallo è uno di questi titoli disponibile ora per nintendo switch e che ci mette nei panni o meglio nelle penne di un detective tanto trasandato quanto divertente il richiamo è a quell'umorismo di giochi come discord con situazioni a limite dell'assurdo basti dire che il caso in cui veniamo coinvolti è relativo sì ad un omicidio ma di piante e a chi affidarci per qualche consiglio sulla strada giusta da percorrere per risolvere il caso se non al nostro inseparabile cactus avrete capito che la folia è di casa nel titolo di footprints game il gioco è per noi anche motivo di orgoglio trattandosi di un titolo completamente italiano il lavoro è ottimo dal punto di vista tecnico con un'animazione interamente realizzata a mano davvero convincente la recitazione dei vari estrambi personaggi è di ottimo livello come si era potuto già notare dall'edizione pc ora playstation 4 e subito dopo nintendo switch che la console sulla quale abbiamo testato il titolo sono pronte a regalarci risate ed enigmi a ritmo di jazz in una avventura che vede forse come unico difetto alcuni enigmi non immediatamente logici ma questo è un problema comune a molti giochi del genere la buona caratterizzazione dei personaggi che incontreremo nell'avventura un backtracking importante ma non troppo noioso dialoghi esilaranti e il fatto di farci sentire un po come se stessimo vivendo dentro un fumetto ambientato a paperopoli sono invece i plus da segnalare è vero che il gioco parte molto troppo lentamente e ci mette un po ad ingranare ma alla fine delle circa cinque ore che integheremo per venire a capo del mistero non potremo in alcun modo sentire di esserci annoiati colori accesi eccitazioni ad una serie di regole con tanto di numerazione ad opera depenuto detective completano il quadro di un'avventura un po breve ma sicuramente spassosa il titolo tutto italiano detective gallo insomma una bella sorpresa giocabile ora anche in mobilità grazie alla console ibrida nintendo questa forse è sempre stata qui si tratta di fertilizzante rinvigorente lo uso spesso per rafforzare i miei piccoli non mi sembra abbia funzionato grazie a tutti grazie a tutti